Arrivano dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla Regione Abruzzo i fondi destinati al potenziamento del Policlinico Santissima Annunziata di Chieti. Dal PNRR 14 milioni di euro per le grandi attrezzature PET, Resonanza e TAC. Dalla Regione 49 milioni saranno destinati all'edilizia sanitaria della ASL di Lanciano, Vasto, Chieti e alla realizzazione del Corpo P e della Radioterapia del Policlinico del Capoluogo Tiatino. Il piano degli interventi è stato illustrato nella conferenza stampa che si è svolta presso l'auditorium del Rettorato dell'Università d'Annunzio di Chieti, alla presenza tra gli altri di Nicoletta Verì, Assessore regionale alla Sanità. Siamo arrivati a finalizzare, come voi sapete, dei fondi ben precisi per quanto riguarda il PNRR. Adesso in modo particolare, dando la possibilità di avere altri fondi, abbiamo stabilito, partendo da 49 milioni, la possibilità di poter passare in delibera quelli che sono i progetti di fattibilità che la ASL sta presentando. I fondi del PNRR sono fondi che sono stati stabiliti secondo gli indirizzi da un punto di vista ministeriale e soprattutto c'è un investimento per quanto riguarda le grandi apparecchiature, quindi l'acquisto di quelle apparecchiature carenti nei nostri presidi. Sarà realizzato anche un nuovo corpo del Policlinico? Sì, sarà realizzato un nuovo corpo del Policlinico ed è uno dei primi interventi che sarà approvato e la possibilità anche di avere il parcheggio, la possibilità di avere una sede definita per la radioterapia. Sargio Caputi, magnifico rettore dell'Università d'Annunzio di Chieti-Pescara. Come l'Università d'Annunzio viene coinvolta in questo progetto di rinnovamento del Policlinico Santissimo Annunziato? Dentro il Policlinico di Chieti più della metà dei docenti, dei medici che lavorano, sono nostri docenti. Poi ci sono gli specializzanti e poi ci sono gli studenti tirocinanti di medicina, di scienze infermieristiche, di tutte le professioni sanitarie. Per cui noi diamo gran parte del personale, tra l'altro tutto pagato da noi, al 90% paghiamo noi e solo in piccola quota lo stipendio lo paga l'ASL. Per cui sono stato tirato dentro questo problema, sia dalla componente ospedaliera che da quella universitaria, al fine di creare un coordinamento, se vogliamo, soprattutto tra l'ASL di Lanciano Vasto Chieti e la Regione. Quindi abbiamo fatto un po' la spola tra le due parti e devo dire che il segreto della riuscita di un'operazione di questo tipo sta proprio nel creare una squadra di lavoro.